IUC e aliquote della Tassi 2014, oggi al Consiglio Comunale di Mazzara del Vallo, accanto a me l'assessore al bilancio, l'assessore Billardello. Come è stato trattato l'atto all'interno del regolamento? Diciamo che noi abbiamo fatto la proposta come amministrazione, abbiamo recepito quello che è stata la nuova normativa nazionale che ha introdotto la IUC, e quindi l'imposta unica comunale che va a disciplinare la Tassi, la Tari e l'Imo e abbiamo dovuto proporre questo atto che è propedeuto alla redazione e presentazione del bilancio di previsione 2014. Andiamo nello specifico, le percentuali come sono state aumentate o ridotte? Diciamo che non possiamo parlare né di aumento né di riduzione perché si tratta di una nuova formulazione che ha portato un'introduzione di una nuova tassa e va a sostituire quella che è l'Imo pagata per il 2012. Quindi è chiaro che noi e quindi i cittadini in particolare, oggi l'assessorato al bilancio e quindi sottoscritto ha fatto anche un'informativa al riguardo, andranno a pagare questa Tassi, la proposta dell'amministrazione, quella dell'aliquota del 2,5 per mille sulla prima casa, che va a sostituire quello che hanno pagato come Imo sulla prima casa e quindi in particolare il 4,6 per mille al netto delle detrazioni previste per legge. Noi abbiamo mandato un'informativa al riguardo che sviluppa dei casi di scuola e quindi delle ipotesi che sono praticamente le più comuni, cioè l'ipotesi di quelle famiglie che hanno due figli a carico e che hanno una rendita catastale che varia dalle 650 euro alle 1.100 euro e abbiamo verificato che sviluppando l'applicazione della Tassi col 2,5 per mille, rapportandola a quello che era il costo dell'Imo sulla prima casa, abbiamo visto che su per giù ci sono delle differenze che oscillano tra le 70 euro in più o le 80 euro in meno, per cui come caso più frequente è quello di una tassazione che rimane pressoché invariata rispetto a quello che era la vecchia Imo sulla prima casa. 14 emendamenti presentati dai consiglieri di opposizione, tutti e 14 bocciati dai consiglieri di maggioranza. Come mai? Perché chiaramente la nostra proposta, i consiglieri di maggioranza hanno sostenuto quella che è la proposta amministrativa. La proposta amministrativa è quella dell'amministrazione, l'amministrazione si riunisce preventivamente con le forze politiche e quindi con i consiglieri di maggioranza e quindi si è stabilito già nella redazione del regolamento da proporre al Consiglio Comunale i quali dovevano essere punti proposti e in che modo doveva essere sistemato il regolamento. È chiaro che sarebbe un controsenso andare ad approvare il Consiglio Comunale da parte della maggioranza proposta da parte dell'amministrazione.